Tutti ai posti di combattimento, motori a massima velocità, rimone a tribordo. Sì signore, virare a tribordo. Nave da battaglia, 360, 12.000 metri. Posti di combattimento, nemico avvistato, bersaglio indivisivo, rocciatore pesante. 360, 12.000 metri. Trimone, chiarare tutto a tribordo. Tutto a tribordo, sì signore. Sertaglio individuato, un rocciatore leggero. Gusto, 340, 9.000 metri. 3, 0, 0, 0, 25.000 metri. Timone, a mezzanave. Timone a mezzanave. Sì signore. Bersaglio individuato, un rocciatore pesante. 3, 4, 0, 9.000 metri. Nemico colpito. Bersaglio individuato, un rocciatore pesante. autoapl Tiper olly. Bersaglio individuus. Bersaglio individuato, un rocciatore leggero. 3, 0, 5, 20. Limone a tribordo. Bersaglio individuato. Incrociatore pesante. Bussola. 3, 4, 0, 8,000 metri. Bersaglio individuato. Incrociatore pesante. 3, 4, 0. Tutto a tribordo. Tutto a tribordo, sì signore. Bersaglio individuato. Incrociatore pesante. 3, 4, 0. Incrociatore leggero. 3, 6, 0. 7,000 metri. Bersaglio colpito. Timone a mezza nave. Timone a mezza nave, sì signore. Sì signore, migrare a tribordo. Colpo diretto. Scutatore leggero. Bussola. 3, 6, 0. 5,000 metri. Bersaglio. Bersaglio. Abbondata. Timone a tribordo. Bersaglio individuato. Incrociatore pesante. 3, 4, 0. 7,000 metri. Bersaglio individuato. Nave da battaglia. Bussola. 3, 4, 0. 7,000 metri. Timone a pavordo. Sì signore, migrare a battaglia. Bersaglio individuato. Incrociatore pesante. 3, 4, 0. 9,000 metri. Caccia torpediniere. Bussola. 6,000 metri. Nemico colpito. Bersaglio individuato. Incrociatore pesante. 3, 4, 0. 9,000 metri. Bersaglio individuato. Incrociatore pesante. Bussola. Bussola. 9,000 metri. Bersaglio portito. Borto di vento. Bersaglio individuato. Bersaglio individuato. Bersaglio pesante. Bussola. 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 Bersaglio pesante. 3, 2, 0. 9,000 metri. Bersaglio individuato. Incrociatore da battaglia. Bussola. Bersaglio individuato. 3, 2, 0. 6,000 metri. Bersaglio individuato. Bersaglio individuato. Bersaglio individuato. Controllo dei danni per riparazione delle parti. Vuotare gli scompartimenti allagati. Stiamo l'incendio. Fuori avanti, muta. Bersaglio individuato. Abbusco l'equipaggio. Abbandonare la nave. Bersaglio individuato. Bersaglio individuato. Bersaglio individuato. Bersaglio individuato. 9,000 metri. Posti di combattimento. Nemico avvistato. Rimone. Pirare tutto a tribordo. Rimone tutto a popolo. Sì, signore. Rimone a mezza nave. Sì, signore. Rimone a tribordo. Sì, signore. Pirare a tribordo. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. 10,000 metri. Bersaglio individuato. Incrociatore pesante. Busco. 3, 4, 0. 8,000 metri. Bersaglio forse. Bersaglio individuati. Bersaglio individuaci. Buongiers. Sì, signore. Bersaglio individuato Incrociatore leggero Bussola Zatto 8000 metri Bersaglio individuato Nave da battaglia Rossa Zatto 8000 metri Bersaglio individuato Incrociatore pesante 360 9000 metri Bersaglio individuato Incrociatore pesante Bussola 360 8000 metri Fotori Arresto totale Bersaglio individuato Incrociatore pesante 360 8000 metri Battaglia Abbiamo subito dati Controllo dei danni Per riparazione delle parti, svuotare gli scompartimenti allagati! Delivio distrutto! Per taglio individuato! Incrociatore leggero! Bussola! Sano! Bussola! Sano! Bussola! Sano! 9.000 destri! Ok! Abbiamo subito dati! E' un compito! Per taglio individuato! Incrociatore pesante! Bussola! Sano! Per taglio individuato! Incrociatore leggero! Bussola! Sano! 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 Sare gli scompartimenti allagati! Sare gli scompartimenti allagati! Bussola! Sano! 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 9.000 destri! Sano! Timore! A mezza nave! Timore! A mezza nave! Sì signore! Riparare le parti! Iniziare il controllo dei danni! Dai! Stiamo vincendo! Incrociatore leggero! Rotta! Tra 0-0! Nemico colpito! Timore! A mezza nave! Sì signore! Ilaria a mezza! La fila è passata! Timore a mezza! Timore a mezza! Timore a mezza! Sì signore! Ilaria a mezza! Trasi conflitto! Sì, 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 sì. Motori a due termini! Vole! E' zanato! Da un'unità! Vole! 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 Quasi colpito! Tutto lavoro! Vole! Vole! Quasi colpito! Quasi colpito! Tutto a tribordo! E' un taglio individuato! Guarda! Vole! 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 Corso! Divacito! Gli abito! Gli abito! Fusica! Tre! Due! Vole! Motori a massima velocità! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Vuotare gli scompartimenti allagati! Controllo dei danni per riparare gli scompartimenti! Controllo dei danni alle squadre antincenti! Controllo degli scompartimenti in chiave! Controllo dei danni per ありesti! In piedi della libertà per il cammino del panco! Controllo individuato! Controllo dei danni per la battaglia! Controllo dei danni per l'interno di la scompartimenti! Controllo dei danni per il legno del panco! Controllo dei danni per il leader di la scompartimenti! Controllo dei danni per il rig�are la costruzione delle parti! Controllo dei danni per il pribattimenti e per il ritardo! Abbiamo preso l'iniziativa! Controllo dei danni alle postazioni! Bersaglio individuato! Incrociatore leggero! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Vuotare gli scompartimenti allagati! Controllo dei danni alle squadre antincendio! Controllo degli scompartimenti chiave! Simone! Tirare tutto a trivorno! Simone! A mezza nave! Bersaglio individuato! Aeromobile ad attacco! Bussola! Tra! Tra! 3.000 letri! Bersaglio individuato! Fumato! Inforciatore leggero! Raffaringerci! Raffaringerci! Arresto totale! D' nato! Pani attacco! Tutati attention! Inforciatore leggero! Fuscelerci! Zaglio! 5.000 letri! Controllo dei danni per riparazione delle parti Ruotare gli scombartimenti allagati Controllo dei danni per riparazione delle parti Ripristinare l'integrità della terza staglia Sì, la verifica! Per carico individuato, rocciatore leggero Rotta! 6.000 metri Per carico individuato, rocciatore leggero Rilevato all'arriamento dello scombartimento Rilevato all'arriamento, rocciatore leggero Rilevato all'arriamento, rocciatore leggero Rilevato all'arriamento, rocciatore leggero Rilevato all'arriamento, rocciatore leggero Rota! 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 9.000 metri! Sì! E' vivo distrutto! Motori, arresto totale! Rilevato all'arriamento! Sì signore! Rilevato all'arriamento! Rilevato all'arriamento! Contatto, avviamo subito i danni! Riparare le parti! Iniziare il controllo dei danni! Ah ah! Corpo diretto! Nemico colpito! Conte DSF! Sopra! 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 5.000 metri! Navevi! Alla volta! Versaglio colpito! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Ripristinare l'integrità della tenuta stagna! Mythico colpito! Mythico colpito! Così! Mythico colpito! Versaglio individuato! Nave da battaglia! Versaglio individuato! Nave da battaglia! Musso lato! Quattro mila metri! Nemico colpito! Nave da battaglia! Nave da battaglia! Versaglio colpito! Cambio colpito! Abborno! 5.000 metri! In alti cittadetto! Colto diretto! I have to run! Aaaaaaah! That's not your call! Vita! Let's go! I've got you! We love you! NEMICO CONFITO! NEMICO DISTRUTTO! NEMICO DISTRUTTO! Abbiamo superiutati! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Svuotare i compartimenti allagati! Controllo dei danni alle postazioni! Infruttatore pesante! Rossa! 3, 2, 0! 7000 metri! MOTORI! ARRESTO SOTALE! MOTORI! MOTORI! IL NEMIICO SE INCLEINAN! Ebbene! 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 Bantaglia! Bustola! 2, 8, 0! 10.000 metri! Controllo dei danni alle squadre antigeni! Controllo degli scompartimenti in fiamme! Perfetto! Perfetto! Bersaglio individuato! Incrociatore da battaglia! Bustola! 0! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Vuotare gli scompartimenti allagati! Oh no! Abbiamo i scompartimenti! No! Quasi colpito! Colpo di retto! Controllo dei danni alle squadre antigeni! Controllo degli scompartimenti in fiamme! Nessunne... Controllo dei passi al porto deii signi! Controllo deiعnii! Quasi colpito sei! Controllo dei 기i! Cont glorious! Quasi colpito sei! Controllo dei mind просchi! Controllare leσειatio!